Il Martinismo e l'Ordine Martinista di Francesco Brunelli Le operazioni e la teurgia degli eletti Cohen Su questo assunto vi sono molti miti e vi sono molte incomprensioni dovute sia all'ignoranza dei problemi posti sia alla favola che esista una formula o qualche cosa di simile di natura magica che permetta di ottenere mari e monti per mezzo del suo uso Questo atteggiamento che si ritrova dovunque lo abbiamo sofferto nel passato e lo soffriamo tuttora nell'ambito delle organizzazioni martiniste Lo stesso Martinez ne fu, sotto certi aspetti, vittima Ed è appunto per sfrondare immediatamente il campo ai malintesi che occorre affermare energicamente che il Martinismo in tutte le sue epoche di manifestazione ha sempre proposto un piano di ascesa e di reintegrazione che dura tutta la vita e non soluzioni mirifiche da risultati completamente transitori o sperimentazioni magiche che lasciano, si è no, un pallido ricordo di esse senza incidere in profondità nell'operatore Senza questa chiave, le operazioni martineziste restano oscure ed incomprensibili comunque inaccessibili ed inutili ai candidati fruitori i quali prendono il mezzo per il fine il supporto per la via che mena lo scopo la reintegrazione la quale non si raggiunge con riti o cerimonie fini a se stesse trasformandosi ipso facto in episodi carnevaleschi quando l'isterismo non determini manifestazioni che potrebbero definirsi demoniache anche se i tapini le attribuiscono ai più grandi dei del loro mondo magico ed allucinatorio Innanzitutto Martinez afferma che le operazioni alle quali si dedicano gli eletti Cohen sono assimilabili al vero culto del divino il cui fine ultimo è quello di produrre i frutti spirituali vediamo dunque l'iter proposto dalla dottrina segreta di Martinez primo la riconciliazione non può che essere lo stato preparatorio ed obbligatorio della rigenerazione vale a dire la reintegrazione nelle primitive proprietà virtù e potenze spirituali di cui era in possesso Adamo secondo la riconciliazione comincia qui sulla terra nel cerchio sensibile per terminare dopo la morte nel cerchio intelletto terzo pervenuto al cerchio razionale o maggiore sede degli spiriti settenari a termine il suo lavoro avendo conseguito lo stato iniziale dell'Adamo innocente ove attende la fine dei tempi in cui avverrà la reintegrazione nello stato divino all'atto del riassorbimento finale dei mondi quarto nel corso di questo suo iter egli entra in contatto con potenze spirituali sempre più elevate che gli confermano la validità del suo lavoro e il suo progredire mediante la loro manifestazione sensibile su questo piano quaternario i famosi passi specie di geroglifici luminosi apparenti all'operatore quinto il contatto può avvenire con l'intervento di tre elementi che sono il consenso ed il concorso del creatore l'intervento di uno spirito maggiore o intermedio e l'azione esercitata dalla volontà dell'operatore sull'essere invocato come si vede la tecnica andava molto al di là della semplice manualità in quanto perché essa potesse dare dei frutti occorreva quella famosa polvere del pirin-pin-pin ben nota in magia l'azione esercitata dalla volontà dell'operatore richiedeva necessariamente certe virtù dipendenti da queste tre condizioni dal suo stato di grazia da una facoltà soprannaturale che gli veniva conferita per mezzo della iniziazione e dalla cooperazione simpatica a distanza dei suoi uguali nella iniziazione scriveva Martinez de Pesquelli la precisione delle cerimonie non è da sola sufficiente necessita un'esattezza ed una santità di vita all'adepto che vuole entrare in relazione con gli spiriti e gli necessita una preparazione spirituale fatta per mezzo della preghiera del ritiro e dell'attesa l'eletto Cohen doveva osservare una regola di vita a carattere ascetico i piaceri dei sensi dovevano essere contenuti al massimo l'alimentazione abituale richiedeva l'abolizione del sangue del grasso e dell'interiore degli animali l'uso dell'alcol era assai limitato erano inoltre prescritti dei periodi di digiuno e di ritiro dalla vita profana che dovevano essere scrupolosamente osservati le tradizionali regole del silenzio della purificazione fisica e psichica dei digiuni periodici erano quindi strettamente prescritte ovviamente come supporti per il raggiungimento di uno stato magico che trovava la sua massima espressione nel corso delle operazioni la riuscita delle quali riassumendo richiedeva purezza fisica e psichica possesso dell'ordinazione osservanza scrupolosa del rituale concorso del maestro e del pari in ordine influenza degli astri e dei numeri calcolo del periodo astrologico favorevole e infine l'intervento della grazia divina lo stesso a martinès dice quando anche noi ci troviamo nelle migliori disposizioni quando tutte le cerimonie si svolgono con la più grande regolarità la chose può conservare il suo velo per noi Robert Ambalen che fu il nostro iniziatore nell'ordine degli eletti Cohen così scriveva nel suo libro Le Martinisme Lo scopo delle operazioni del culto è di consentire all'uomo due cose primo all'uomo individuo di reintegrarsi nell'uomo archetipo secondo all'uomo archetipo di riconquistare una volta ricostituito un dominio da cui le entità decadute lo avevano privato facendolo decadere con sua propria colpa e di rientrare in possesso della sua natura gloriosa in merito allo scopo dell'uomo individuo di reintegrarsi nell'uomo archetipo esso è correlativo di un regime materiale purificazione dell'aura umana materiale con l'astinenza da certi alimenti nella nutrizione troppo grossolani o animali e di un regime morale purificazione dell'aura umana spirituale con il rigetto di tali o tal altri difetti lo sviluppo di certe qualità conoscenze la sparizione di abitudini nocive eccetera in merito invece allo scopo dell'operazione del culto che consente all'uomo archetipo di riconquistare un dominio esso è correlativo di una lotta di un realissimo combattimento iperfisico contro le entità rivali per mezzo delle operazioni teurgiche ora in un combattimento iperfisico di questo genere come l'uomo potrebbe affidare la cura di vegliare intorno ai suoi occhi di protezione a delle entità extraumane che li giustamente mira a spodestare da questo dominio che cos'è precisamente questo dominio la cabalà come la sacra scrittura lo menziona il regno in ebraico malcut il regno o malcut è conosciuto dai cabalisti quale dominio proprio dell'uomo in esso si riflettono ciascuna delle altre sefirot o sfere dunque l'intero albero cabalistico immagine del famoso frutteto del giardino dell'eden e due alberi quello della vita eterna e quello della scienza del bene e del male quest'albero cabalistico deve avere il suo riflesso microcosmico in malcut e così tutte le sfere metafisiche che sfuggono all'uomo il solo dominio che gli è aperto è malcut piano che gli è proprio dove lo spazio è identico alla sua essenza dove il contenente è in paritempo il contenuto dove si realizza allora la decisione divina che vuole che l'uomo sia l'immagine di dio in origine l'uomo archetipo occupa governa ed amministra malcut dopo la caduta malcut oscurato ed ottenebrato in parte dalla prepotenza che vi hanno presa i guardiani ribelli diventa allora la sua prigione la sua ganga melmosa malcut ridiventerà il regno luminoso ed armonioso dove adam cadmon regnerà nuovamente per continuarvi il suo compito eterno in un caso come nell'altro malcut resta la pietra prima grezza poi sgrossata poi levigata l'unica grande opera filosofale degna di un adepto ora se le potenze negative avendo trionfato su adam sono i reggenti di malcut durante la caduta di adam cadmon è eco ammettere che dopo la sua reintegrazione nella primitiva natura i reggenti saranno dei riflessi microcosmici dell'adam cadmon cioè le cellule costitutive più sublimate più purificate dell'uomo archetipo cellule che avranno preso il posto delle potenze negative infine scacciate dal regno si è fatta a parer nostro discreta confusione tra le istruzioni per le ordinazioni ai diversi gradi dell'ordine e le istruzioni per le operazioni queste seconde tutte riservate ai rosa croce e ai grandi architetti a giustificare confusionari diremo che le ordinazioni o iniziazioni erano anch'esse chiamate operazioni in realtà solo quella di rosa croce era una vera e propria operazione magica sotto questo aspetto diamone un elenco 1 operazioni di ordinazione 2 invocazione giornaliera o lavoro giornaliero dei rosa croce invocazione lunare dei tre giorni 4 operazioni equinoziali e solstiziali le tecniche comportavano tre elementi distinti primo gli esorcismi destinati a stroncare l'azione demoniaca nel cosmo ad ostacolare la loro azione sugli uomini a distruggere il loro potere sull'operatore e i suoi discepoli ad ottenere la fine o la limitazione di certi fragelli e ad annullare le operazioni di magia nera secondo gli scongiuri destinati a stabilire un contatto con il mondo angelico e con la comunione dei santi tra questi ultimi l'operatore si sceglie dei patroni particolari e nel mondo angelico dei guardiani e delle guide terzo le preghiere rivolte a Dio per ottenere la sua grazia e la sua misericordia in vista della reintegrazione esse sono integrate nei rituali di scongiuro che precedono e sono destinati a canalizzarle e ad amplificarle accanto a ciò si deve porre la conoscenza dell'astrologia e la sua pratica per i necessari calcoli delle posizioni degli astri la conoscenza delle analogie e delle sue pratiche applicazioni in ordine a strumenti colori vesti eccetera le tecniche per la costruzione dei cerchi operatori i cui elementi variano in rapporto allo scopo delle operazioni ai tempi e ai supporti impiegati il culto divino quello segreto rivelato da martinès secondo la suddivisione delle forestier ripresa dall'Amelan e ormai classica poteva suddividersi in dieci parti che sono seguendo Ammelan alchimia spirituale le seguenti culto di espiazione l'uomo manifesta il suo pentimento tanto delle proprie colpe quanto della caduta del prototipo iniziale l'Adamo primo corego del coro delle anime preesistenti ne deriva un ascesi ed una rituale penitenziale sefiramal culto di grazia particolare generale operazioni che consistono nel sostituirsi all'insieme dell'umanità terrestre del momento e a farla partecipare ai frutti dell'operazione individuale sefira iesod culto operatorio contro i demoni autori della degradazione all'inizio dei tempi essi tendono a mantenere e ad aggregare il loro gioco su tutta l'umanità con degli esorcismi le celebri operazioni quinoziali il koen li combatte e li respinge fuori dell'aura terrestre sefira hod culto di prevaricazione e di conservazione è il seguito della precedente questa operazione consiste nel combattere e nel punire i seguaci della magia nera e della stregoneria e soprattutto nel punire gli spiriti decaduti che ne sono i collaboratori sefira culto contro la guerra se l'omicidio è il più grave dei crimini l'omicidio collettivo è evidentemente ancora più grave il koen lotta contro le potenze di odio tra le nazioni e tenta di sviare la loro azione sefira tiferet culto di opposizione ai nemici della legge divina operazione teurgica che ha per scopo la lotta contro le azioni umane che tendono a diffondere l'ateismo il satanismo il luciferismo sotto le loro forme ugualmente umane sefira geburach culto per ottenere la discesa dello spirito santo operazione che ha per scopo l'infusione dello spirito santo e dei suoi doni sefira hesed culto di rafforzamento della fede e della perseveranza nella virtù spirituale divina operazione che ha per scopo la comprensione dei misteri divini comprensione che permette all'emulo di rafforzare la sua fede in modo assoluto e definitivo sefira binach culto per fissare in sé lo spirito riconciliatore divino è l'accoglienza totale dello spirito santo la discesa delle lingue di fuoco della pentecoste l'illuminazione finale con i privilegi che essa comporta sefira chokhmah culto di dedica annuale di tutte le operazioni al creatore questa parte comprende l'insieme delle consacrazioni delle benedizioni eccetera fin qui Robert Ambalan tuttavia a nostro giudizio non ci sentiamo di sottoscrivere globalmente il commento a questa suddivisione che Martinès abbia ricreato un culto con caratteri particolari è una verità che traspare dalle sue istruzioni segrete e dalla sua reintegrazione ma la stessa ordinazione dei rasa croce con il sacrificio cruento dell'agnello ci sembra assai lontana anche se è magicamente corretta da una interpretazione moralistica ed assai cristiana ma Ambalan scriveva nell'epoca assai breve delle sue riscoperte cristiane la verità è che i culti elencati si intersecano variabilmente tra di loro come vedremo in breve abbiamo accennato che solo i grandi architetti o grandi maestri Cohen o apprendisti rosa croce terz'ultimo grado della scala in un certo qual senso eseguivano delle operazioni preparatorie a quelle riservate esclusivamente ai rosa croce ultimo grado della scala essi infatti avevano i poteri e le funzioni degli esorcisti si legge che operano il mercoledì e il sabato di ciascuna settimana tutti i mesi dell'anno e in tutte le circostanze pericolose quando il caso lo richiede imponendo le loro mani a squadra su tutte le cose che sono oggetto delle loro operazioni cioè esorcizzando oggetti o persone per mezzo dell'imposizione delle mani inoltre essi sono tenuti a servire il loro potentissimo maestro sei giorni per i due equinozi dodici giorni per i due solstizi quattordici giorni per la perfetta operazione dei due equinozi quattordici giorni per quelle dei due solstizi quindi i grandi architetti lavoravano all'operazione equinoziale e solstiziali solo nella fase preparatoria sapendo combattere gli spiriti perversi ma nulla conoscendo dell'arte di chiamare quelli positivi perché non sono altro che degli esseri temporali prigionieri cioè del quaternario e non potranno ottenere la potenza necessaria se non divenendo esseri spirituali era per questo richiesto uno stage di sette anni le operazioni dei rosa croce oltre quella di ordinazione erano l'invocazione giornaliera l'operazione lunare o dei tre giorni operazioni equinoziali e solstiziali del primo tipo operazioni equinoziali e solstiziali del secondo tipo tutte queste operazioni sono indicate dettagliatamente nel testo queste le operazioni teurgiche dei coen o meglio dei rosa croce ovviamente qui abbiamo dato semplicemente una traccia e praticamente abbiamo tacciuto tutti i dettagli poiché la struttura delle presenti note esula dall'operatività coen in senso estensivo aggiungeremo solo che il piano operatorio cioè i cerchi operatori erano per quest'ultimo tipo di operazioni lo schema dell'universo immateriale dove il teurgo si accingeva ad entrare per mezzo della sua aspirazione delle sue preghiere e della sua preparazione rituale la comparsa dei passi al termine del lavoro teurgico rappresentava la manifestazione della presenza della potenza con la quale il mondo spirituale rispondeva al celebrante ci è gioco forza a questo punto sottolineare ancora una volta che il Cristo di Martinez e il suo cristianesimo non erano che una vernice atta a rendere accettabile la sua dottrina segreta nell'ambiente massonico in cui svolgeva il suo servizio il Cristo di Martinez non ha niente a che vedere con il Cristo dei cristiani perché in realtà è uno dei numerosi avatar del riconciliatore spirito emanato a diverse riprese dal cerchio della divinità che per compiere la sua missione ogni volta animava un corpo di materia apparente la prova evidente di ciò la prova che con la parola Cristo Martinez intendeva il riconciliatore qualunque abito esso avesse vestito o vestisse in futuro e non il Gesù storico si ha nel fatto che esso fa parte di una schiera di uguali di uomini Dio che comincia con Enoch ed include Noè Melchisedec Giuseppe Mosè David Salomone Zoro Babbele Una lampante dimostrazione dell'essere il cristianesimo di Martinez una vernice ci viene dal fatto che operativamente ai nomi dei geni e degli angeli della tradizione magica sostituisce quelli dei patriarchi degli apostoli dei santi e dei soli angeli ammessi dalla chiesa per esempio il quaternario vede al posto dei quattro angeli i quattro evangelisti il settenario vede al posto dei sette pianeti con i rispettivi angeli i sette vescovi delle sette chiese dell'apocalisse i geni delle dodici costellazioni sono sostituiti dai dodici apostoli e perfino i 360 geni dei giorni solari sono sostituiti dai 365 santi e così via e così via Grazie a tutti